Basta Negri Da quel giorno gli uomini alloggiano nelle aule della Caritas della chiesa di San Ferdinando Re del parroco Don Mimmo Marrone, praticamente di fronte a Piazza della Costituzione, mentre le donne alloggiano nella casa gestita dalle suore di via Trinitapoli all'ingresso della città. Fra i sanferdinandesi, e probabilmente si tratta di ragazzi, c'è chi non sta gradendo la presenza dei nigeriani e ha pensato di manifestare il suo dissenso.